Musica Guarda quanti ce ne sono Guarda quanti ce ne sono Guarda quanti ce ne sono Allacciate le cinture Preparatevi per Random game Random game Hello guys benvenuti in un nuovo video E io sto guardando il secondo monitor Ragazzi iniziamo già benissimo Ragazzi il video che andremo a fare oggi E' in compagnia di tutto il team Ora perchè li ho portati tutti Perchè il profilo che andremo a valutare oggi Non è assolutamente un profilo Normale Non è assolutamente normale Vi ricordate il primo posto che era Nick Con quasi 10.000 euro Vi dico soltanto che in un solo video Non ce la faremo Infatti questo video sarà suddiviso in più video Non so quanti però fidatevi non ce la faremo Mi raccomando Tutti quanti noi Già ci sentiamo poveri Solo Solo A pensarci Effettivamente sono entrato in questo profilo Soltanto per raggiungere dei bundle Che noi vendiamo Ma non abbiamo nemmeno tempo per dire questo Ragazzi fidatevi che non abbiamo tempo Ma casomai siete interessati a qualche bundle Come Iconic La 9 Wonder O tutto il resto Giù in descrizione trovate il link Di come acquistarli Eccetera Non vi preoccupate Passate da me Ragazzi Giù in descrizione trovate anche il mio link Per Instagram E tutto il resto Ora partiamo con l'intro Perchè fidatevi Giù le commedi Se almeno per mezzo secondo Vi sentite poveri Effettivamente dovete scrivere Hashtag poveri Perchè è inevitabile Per forza Nessuno ha un profilo paragonabile a questo Quindi appena diciamo una cifra Devi essere subito pronto Già lì Pronto Carichissimo Sei pronto? Siete pronti? Più che altro Ok Ma che V-Bucks è euro Ma che V-Bucks Ah è euro Ok Già iniziamo Già iniziamo Ok Proprio così Stampato Però non l'andiamo a valutare Questa qua Due mani Due mani Due mani sulla calcolatrice Ragazzi Però Carlito Ha shoppato tutto Con il supporto diretto Non è felera Ma La cosa è bella Guarda Ma per il caso Lui shoppa tutto No No C'è pure la roba che non È brutta Tipo questa Se ti arrivano i soldi Vabbè Vabbè andiamo nell'armadietto Volete partì con Con questo? Partiamo con le skin Che sono C'è le skin delle armi? Facciamo i balletti Ma Quella l'ultimo Quella l'ultimo Partiamo Allora io non le conosco Quali sono quelle shop Me le potete indicare Quali sono Allora partiamo dal presupposto Che Magma è shop Quanto vale magma? Allora Sì La prima La terza La terza La quarta La terza La terza La terza Sì 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 Aspetta Ok la terza Quindi questa Ora facendo Sì Luce Magica Ma io non ho mai visto Tutte queste skin così Voi avete mai visto Tutte queste skin delle armi? Oddio No Ma che burdi? Sì però non le abbiamo Sì però non le abbiamo Sì ma Ragazzi Abbiamo appena finito Di valutare Quelle che sono Le coperture O meglio Le mimetiche Per le armi Partiamo dal presupposto Che Non le ho mai viste Così tante Non le ho mai viste Così tante Una volta sola Alcuni di voi Mi contattano Su Instagram Per dire random Ma posso valutare Il mio profilo Vale intorno ai 200 euro Intorno ai 150 Ragazzi questo qui Soltanto Di mimetiche 140 euro 140 euro Ora abbiamo finito Con le coperture Vi abbiamo detto Soltanto il prezzo Delle mimetiche Per farvi rendere conto Di che le profilo Andremo a valutare oggi Sei pronto? Sei pronto? No No Vai 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 A botta Guarda Quante ce ne sono 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 Quante ne ho Non ci credo Guarda Quante ce ne ho Stai facendo Ma stai facendo Senti Vabbè Va bene Calmi Calmi Ce la faremo Calmi Non ce la faremo Ma ce la faremo Allora Va bene Va bene Ci siamo Allora I verdi I verdi I verdi valgono 8 euro Quindi partiamo Con Cioè Ma mi consigliate Di dire anche i nomi Oppure no Ok Abbiamo Staffetta Che valgono 8 Ma si ma più di Ma pure Ragazzi Ma di che stiamo parlando Staffetta Guarda 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 Allora Partiamo da Staffetta Che sono 8 euro Soldato Stragliato Stragliato 8 euro 8 euro Semente da Semente da fieno 8 euro Poi abbiamo Segugio 8 euro Scoot Scoot Oddio Oddio Mi sta salendo Già il Ragso Allora Scout Creme Quello Secondo me Non gliele carica Tutte quelle skin Stato Esplodendo Il microfono Scout Cremisi Che sono 8 euro Scout 8 euro Ranger Patriotico 8 euro Ranger Natalizio 8 euro Ranger Naso Rosso 8 euro Ranger Normale 8 Tutto Ranger Pattugliatore Pungente 8 euro Pastel Io Adoro Saski Nuo che C'è V-Bucks Saski Non esce Vi giuro Vabbè Tanto Ce lo so Prefisco Tutti V-Bucks Esce Operazione Zabaglione 8 euro Milite Patriotico Che sono 8 euro Milite Assalto 8 euro Milite Normale 8 euro Luce Notturna 8 euro Light Show 8 euro Laurato In Munizione 8 euro Ragazzi Se c'è qualche scherrata Avvisatemi Perché io sto dipandando Come fosse Un treno a vapore Guardiore De Fischietto 8 euro Girasole 8 euro Gilda 8 euro Fulmine 8 euro Poi abbiamo Folletta Che sono 8 euro Stavo dicendo Follettina Abbiamo Dominatore Del deserto Che sono 8 Abbiamo Dominatore Che sono altri 8 Difensore Scarlatto Che sono 8 Ma quella Non c'ha Già Ce l'hai Scusa Ah no Tu c'hai Quella versione Più Dei Poi Ce l'hai No No C'ho Quella Allora Devastatore Ragazzi Scusate Che non guardate La telecamera Perché Insomma Che ve ne frega Poi La telecamera Starete Vedendo Tutte Ste De Devastatore Che sono 8 euro Cool Che sono 8 euro Brazer Che sono 8 euro Birdy Che sono 8 euro E finiamo Finalmente con gli 8 euro Con aura Aura Abbiamo finito Sì Ok Partiamo Con le skin Da 12 euro Casomai loro vedono Qualche skin rara Mi avvisano Partiamo con Trita tutto 12 euro Assomiglia la rena Eh sì Dei poveri Tripla minaccia 12 Stop 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 Che è successo Stop Che è successo Ma che è successo Dai Tu mi dà Eh le cugine Che tre amiche Devono Sparare 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 Allora La seconda Tripla Ok ci siamo Tiro preciso 12 euro Tiro in sospensione 12 euro Terza base 12 euro Tempesta di sabbia 12 euro Super mazza 12 euro Chissà perché viene chiamato così Poi abbiamo Che c'è Non dire sempre 12 euro Perché tanto sono tutte blu Va bene Va bene Va bene Starter Poi abbiamo Squadra sub Spina dorsale Stop 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 Ma che è Ma che c'è Ma che c'è Ogni due secondi Che c'è Dile che stai fatta Andando Dile Che c'è Spina dorsale Poi c'è Spezza cuori Poi Specialista ricognitore Sogno Sculli Sorgente decorato Semi Scimitarra Sapientona Rivolta Riflesso furtivo 450 euro 450 euro 450 euro Vabbè Vabbè 400 Mezzini 450 450 450 Allora Prodigio e Deplassi Quindi lo saltiamo Prefusso Che sono altri 12 Pesce secco Poi abbiamo Percursore radioso E percursore meraviglioso Poi abbiamo Nomignolo Missioni di mezzanotte Miss bully Minaccia aerea Medzmer Maximilian Che è praticamente Quello dei poveri Che è Ok Abbiamo Istinto Poi Ipernova Intuizione Interruttore Questa qua è un'altra skin Che mi piaceva Poi abbiamo Incursore del naso rosso Mi piaceva pure questa Hooper Furia mascherata Che non mi è mai piaciuta Né lui Né la femmina Sinceramente Fortuna Poi Falco solare Diva del disco Della disco Scusate Mi sale ogni tanto Dinamo Lo metto ovviamente Al contrario Perché dopo Facciamo pubblicità Cromo Poi abbiamo Abbiamo Cripti E comunque Snap Ma come mi scrivi male Scusa ho mangiato Abbiamo Cripti 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 Cyper Poi abbiamo Cartucera Calisto Calisto Abbiamo Calciafiamma Bucaniere Asmadeus Se è il mio nome Buttata male Eiter Asmodel Vabbù Nostradamus Agente speciale Poi abbiamo Wild Che è il pacchetto Da 5 Versa Vega Fa parte del pass E poi abbiamo Vasco integrale Praticamente la Honor L'Honor Quanto valeva Quanto valeva L'Honor Che Honor è questo? L'Honor 20 Il primo L'Honor 20 Il primo Cercato L'Honor 20 Ma sei portata Le skin viola Veramente Oddio Facciamo un passo indietro Rifacciamo la clip Rifacciamo la clip Rifacciamo la clip Ma allora non hai capito Queste sono quelle che a lui non ha messo i preferiti Lo so Lo so Lo so Lo so Lo so E ragazzi Infine abbiamo Agente speciale Ok Siamo arrivati alla fine Dei blu Che ovviamente ci saranno Ma perché guarda sempre là Ci saranno altri blu Cioè tipo c'è un secondo monitor Guarda il secondo monitor Come fosse la webcam Secondo me Tipo mi dovrebbero mettere Tanti webcam Ragazzi abbiamo finito Con i blu Che poi non sono tanti finiti Perché poi ci sono anche i preferiti Sopra Partiamo con i viola E Insomma raga Non so se lo vedete Di quanto ci siamo alzati Cioè per arrivare fino alla fine Ce ne metteremo un bel po' di tempo Raga vi ricordo che questo video Sarà suddiviso in più video Partiamo con Con i viola Ok Partiamo con Wilde Che fa parte del pacchetto Da 5 Dunque poi ci sta Versa Che va bene Vega Mi ricordo che ogni viola Costa 15 euro A parte Vega Che è del pass E vasco integrale Che vale 800 euro 700 euro No aspetta Ok 700 euro Quindi aggiungirete 700 euro Poi abbiamo Truppa tossica Poi abbiamo Trina Possiamo riassumere Il nome Ese è giulio Abbiamo Takara Abbiamo Strega della notte Stratus Sterling Del pass Stratus Del pass Scusate Scusate Avevo visto Un uomo di colore Un po' vestito bene Pensavo che fosse Shope Scusate Ma io voglio il biondo Io voglio il biondo Con la barba Ma perché stai il biondo Con la barba Il biondo Domina Il domina Sì vabbè Lagga un altro po' Oddio ma mo l'ho notato Ma questo ce l'ha tutte Why you What the fuck Bellissimo La collezione completa Vabbè comunque Stella dei Freestyle USA Corea Germania Inghilterra Francia China Staudiciana Cina Canada E E normale Poi abbiamo Stella Ammantata Poi abbiamo Splode Pass Sorpasso Sinapsi Sinapsi Vabbè Questo è del pass Pass Saccheggiatore felice Praticamente In rumeno Lì come si chiama Mascotte Saccheggiatore felice E se tu vorresti vendere Staccheggiatore felice A quanto lo venderai Staccheggiatore felice Rider fortunato Qualcunato Polvere fa parte del pass Questo qua del twitch Paradosso Poi abbiamo Operazione segreta Ombra Motociclista Milite teschio Che fammi vedere No ok E quello E quello Cinesato E quello Cinesato Poi abbiamo Meraviglia Meraviglia vale 800 euro 800 euro Ok Poi abbiamo Il dottor Marshmallow Che va bene Marshmallow Non vale Come suol dire Non c'è Non c'è ancora Non c'è ancora Non c'è ancora Una valuta Quindi vale ancora così Luminos Aspetta Ti ho messo Uno Non è del Pack da 5 Vabbè mettiamo No no Ok Ok Banni Poi c'è L'Iconic Che vale Eh voglio 1.000 1.000 euro 9.000 9.000 9.000 Ok 1.000 Vabbè mettiamo 1.000 Mettiamo 1.000 1.000 andiamo Sul sicuro C'è l'S10A Che vuole 1.000 L'Iconia L'Iconia Ok abbiamo 1.000 L'hai messa 18 Questa ha 18 insieme All'altra Ok quindi 18 insieme All'altra Abbiamo Faira Ether Questa è Pass Duellante Audace Ok Pass Dissedente Perché pass Dissedente Non è vero No 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 Demi Demi Dovrebbe essere pass Crackbella Poi c'è Coniglio Mastino Coniglio Incursore Cobalto E5 Clutch Che fa parte Vabbè Già l'abbiamo contata Poi c'è Chirurgo da campo Pass Carlino Siamo arrivati a Canaglia Poi Vabbè Pass Pass 400 euro Borbandiere Reale Poi abbiamo Bianco Accecante Abbiamo Mascotte Poi Assualpino USA Assualpino Corea Assualpino Germania Inghilterra Francia Che ce l'ho anch'io Cina Canada Normale Ok L'abbiamo contati tutti Poi c'è Artigliere dello Zenzero Archetipo Agente Ribelle Che mi sembra Che faceva Dei 5 euro Giusto Ok Pass Poi c'è Agente Biologico E abbiamo finito Con i Viola Sembra strano Ma abbiamo finito Qua con i Viola Ci sono quelli sopra Vabbè I Viola non preferiti Grazie per puntualizzarlo Ogni volta Così Sono io Quello che si dovrebbe Poi sgobbare Facciamo così Facciamo a fine video A fine video Che è meglio Oh Allora Partiamo con Costume da Starlord Poi abbiamo Costume Black Window Questo è Pass Pass Vertex Abbiamo squadra speciale Trice Trice Mara Che c'è Trice Raro Sentinella Sentinella Che fa parte del Pass Seguccio Già l'abbiamo contato Seguccio da guerra Poi Che era Seguccio.it Che era subito.it Rocks Che fa parte del Pass Seguccio.it Punto Eh Rovito.it Abbiamo Rex Abbiamo Rex Rapace Questo qua che fa parte Dei congelati Poi abbiamo Ranger dell'amore perduto Che fa parte sempre Del pacchetto Poi abbiamo Omega Quello gelato Sì sì Omega E il pelato Che non valgono niente Oblio Poi c'è Malevolenza Links Vabbè non vale niente 40 euro Di leader squadra delle rose Perché fa parte del Salva il mondo Abbiamo leader squadra panda Leader squadra delle coccole Abbiamo la pilla La regina dei ghiacci Krampus Jolly John Wick Inferno Poi saltiamo Saltiamo Abbiamo Aime Frostbite Poi DJ Bob Devastazione Pass Criterio Questo qua fa parte Dei congelati Ce l'abbiamo contato Corvo Colpo da maestro Fa parte Dei congelati Ce l'abbiamo contato Cavaliere rosso Cavaliere del ragno Del ragno Ah no del ragno Altre verdi Incredibile Poi abbiamo Carburo Che vabbè E pass Poi abbiamo Avanguardia oscura Arc Aracno Vabbè ci siamo capiti E abbiamo Accordo Non mangiarti la sgrava Abbiamo Accordo Potente Abbiamo finito Anche con i leggendari Non preferiti Adesso arriva il guaglio Perché se notate Sulla destra E sto dicendo Anche a tutti quanti Compresi anche voi Siamo arrivati Alla metà Dei non preferiti All'altra metà Sono i preferiti Cioè Mi piacciono tutte Mi piacciono tutte Fai una salita veloce Ok però siamo arrivati All'accordo Una salita veloce Veloce Sì Olè Sì Sì Ciao